Sono Nicolas Gerardi, la sala cinesca. Io gioco come portiere e fin dal primo giorno ho sempre giocato in questo ruolo. È un ruolo che mi piace perché mi piace buttarmi. Una cosa che mi piace tanto è anche quando l'attaccante calcia e a me piace negargli il gol. Da quest'anno ho cominciato una nuova esperienza qui all'Inter e vivo qui a Milano con altri 22 ragazzi in convitto a Cormano. L'ambiente, il convitto è molto ospitale, una specie di casa molto familiare dove stiamo tutti assieme. Nicolas è prima di tutto un grande portiere, ha un bel fisico, è un ragazzo molto solare, sempre molto simpatico e sempre molto sorridente. È un compagno che veramente tutti vorrebbero avere. Nicolas è un ragazzo molto simpatico, umile e sempre solare. È un ragazzo che ti aiuta sempre nelle difficoltà e dà sempre il massimo per tutto e tutto ciò che fa lo fa con amore. Durante il tempo libero facciamo i compiti e prima di fare i compiti però io e un altro mio compagno facciamo sempre delle sfide a bigliardino, cioè che consistono in tre partite a chi ne vince di più. C'è un ragazzo! Quest'anno è cresciuta molto questa amicizia sia dentro che fuori dal campo e speriamo che possa sempre crescere di più. Durante la settimana facciamo quattro allenamenti, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Facciamo due allenamenti in più rispetto ai nostri compagni di squadra perché la scuola ci permette di allenarci anche la mattina, il martedì e il giovedì. Per la scuola credo che quest'anno l'Inter si porta avanti ancora una volta cercando di sviluppare ancora questo principio di voler fare crescere anche a livello studioso queste ragazze. La scuola è molto importante, hanno l'opportunità qua in Terelo di poter fare scuola giustamente e allenamento. Questa è una grossissima opportunità. L'Inter da questa opportunità di quest'anno credo che per loro sarà sicuramente una grossa, grossa mano perché avere più allenamento e fare anche scuola legata a tutti e due può permettere a loro giustamente di crescere e maturare ancora di più. Il mister Coet ha fatto una grande carriera, è stato un grande giocatore, ha vinto molto anche a livello europeo e lui ci parla sempre di come erano i suoi allenamenti, che erano molto tattici e lo aiutavano molto a crescere tecnicamente e infatti lui ci allena molto sulla tecnica e sui tiri. Va via benissimo, Giorca F entra in area di rigore, tocca fuori la palla per Coet, tira e gol! Gol di Coet! Secondo me poter avere come mister il mister Coet è molto importante perché porta un'esperienza alle sue spalle molto importante. Giocare a livello professionistico non è semplice, non è da tutti. Lui ci racconta sempre di come ha trascorso la sua carriera e su quello che faceva durante gli allenamenti e durante le partite e com'era affrontare una partita davanti a 80.000 persone. Per me essere il portiere dell'Inter è una grande emozione ed è molto bello perché poter indossare questa maglia non è da tutti e poter giocarci anche da titolare è molto emozionante. Grazie!